...11, 11, 11, draghi ripeti che si aggirano per questa città e sono i draghi che dicono no al governo tecnico, che dicono no alla BCE, che dicono un altro scef e alle sue leggi per governare il nostro destino, allora i draghi si ripetono e si approvano nel centro di questa città e siamo tanti e vogliamo dire a tutti che noi siamo quelli che invece vogliono associare i beni comuni che respignoranno sempre al vittente le lettere di Trichet, sono quelli che hanno riuscito per l'usco di tutti questi anni e sono quelli che la Germini stanno sempre contestata, immaginando un'università diversa, un sapere diverso, e allora avanti draghi ripeti, quando finiamo questo corteo andiamo tutti di accladature in una grande assemblea che ci vede protagonisti, che di lì ci fa ancora ripartire oltre per andare a prendere il nostro futuro, avanti draghi ripeti, prendiamoci in Bologna!